Ciao a tutti, sono Damiano Scarpa, sono il Presidente dell'Azione Cattolica Parrocchiale di San Nicola, in provincia di Lecce. Nella vita ho un'agenzia assicurativa, sono appena tornato da lavoro. Per quanto posso lavorare da casa, comunque l'importanza di stare in ufficio anche per la nostra attività, diciamo che è stata anche una fortuna in questo periodo di quarantena. La mia esperienza con l'Aipo non può essere nient'altro che positiva. Qualche mese fa, intorno a settembre, siamo entrati in contatto per l'organizzazione. Ci sono chiesto di organizzare una serata in cui ci siamo formati, ci siamo anche divertiti. Abbiamo preso in considerazione tanti aspetti che magari nella vita di tutti i giorni passano in secondo piano come qualcosa di scontato, come può essere quello del riposo, ma che in realtà poi è davvero fondamentale. In quel periodo, oltre alla bella serata e oltre al contributo ovviamente, è stato dato la nostra associazione con cui, specie in questo periodo, abbiamo potuto anche fare del bene sul territorio. Quindi veramente non è stato qualcosa di secondario. Dicevo, in quel periodo mi sono anche sposato, a ottobre, e quindi con la mia futura moglie abbiamo deciso di acquistare un set da riposo con rete e materasso. E veramente non posso chiedere giudizio positivo. Il riposo è migliorato tantissimo per la comodità e anche per la possibilità di sollevare la rete come meglio ci aggrada. Quindi veramente il giudizio che do è positivo a 360 gradi. Partendo dalla serata iniziale, fino ad oggi non ho nulla da ridire. Anzi, nient'altro che parlare bene. Ripeto, anche con il contributo, aspetto di non secondaria importanza con cui abbiamo davvero potuto aiutare tante famiglie in difficoltà come associazione. Vi saluto tutti, un ringraziamento a voi e un ringraziamento alla ICO. Buona serata.